Vengono pezzi di pomodoro, la ributtate dentro, va bene, piano piano. Il DNA Lab apre le sue porte agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il progetto vede infatti unita l'EITIS Galileo Galilei di Arezzo e l'istituto comprensivo 4 novembre. Queste attività vogliono appunto avere una funzione orientante, ovvero mostrare le possibilità di scelta che ci sono nei vari percorsi scolastici. Poi il ragazzo, in base alle sue inclinazioni e interessi, avrà facoltà di scegliere liberamente. Gli studenti hanno potuto toccare così con mano il laboratorio dedicato esclusivamente alle analisi sul DNA. Venire ai laboratori, portare i ragazzi di terza media ai laboratori dell'istituto tecnico-industriale, in particolare al laboratorio di genetica, di DNA, è in quest'ottica un'azione di orientamento e di promozione anche di percorsi scientifici, tecnologici, che i ragazzi magari immaginano siano fuori dalla loro portata delle scelte. Invece sono vicine e sono possibili. Un percorso sostenuto anche dal progetto Donne Scienza, realizzato con il contributo dell'assessorato Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità del Comune di Arezzo. Noi sappiamo dai dati che le donne che si avvicinano alle facoltà scientifiche sono molto minore rispetto agli uomini. Dare l'opportunità a delle ragazze, delle giovani donne che stanno per scegliere la scuola superiore di fare delle esperienze nel laboratorio, come quello di Itis, che è una scuola eccellente del nostro territorio, è stato per noi un grande orgoglio e soprattutto un utile mezzo per farlo conoscere.